Nel 1966 la Gran Bretagna era terrorizzata da una barca molto rock. Radio Rock, la più grande stazione del mondo. Radio Pirata. Sono topi di fogna, senza una morale. Benvenuto sulla barca dell'amore. Da Richard Curtis, creatore di Notting Hill. Quattro matrimoni e un funerale. Mi spaso presto! E la Vakcioli. Benvenuti nel nostro mondo. Noi la faremo chiudere. No! Philip Seymour Hoffman. Non ci faranno chiudere, siamo pirati. Sì! Bill Nighy. Che sbaglio madornale. Recy Fence. State rompendo le regole. Nick Frost. Ehi, sei molto bella tu. e Kenneth Branagh. Che peccato. Sicuro che questo sia il modo migliore per imparare a nuotare? Sicurissimo! Benvenuti a bordo di Radio Rock Revolution. Anche se ripensando ci funziona con i bambini. Mi sa che se ci butti un adulto... non è la stessa cosa. Con me m'è. Assista che mi acc.' Sempre. Non è la stessa cosa. Comme. Di Gastro. Grazie a tutti.